Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitt, ha informato la cittadinanza che attualmente sono otto i lucerini che risultano positivi al Covid-19, mentre una persona è soggetta alla quarantena obbligatoria. Il numero dei positivi continua a scendere, dichiara il sindaco di Lucera. Le vaccinazioni stanno certamente dando i frutti sperati. L'invito resta quello di vaccinarsi e far vaccinare il più possibile. Intanto in Puglia il giorno 22 settembre si sono registrati 196 nuovi casi su 12.337 test effettuati. Si sono registrati tre decessi e in provincia di Foggia 21 nuovi casi di coronavirus. Scende a 3.048 il numero complessivo delle persone attualmente positive al Covid-19 in Puglia.